Dopo aver travolto in gara 1 campo basso, la Virtus Nelpino vuole confermarsi. La formazione del duo Bellizzi questa sera alle 20.30 sarà di scena alla Magnole Arena. Nel match d'andata, la formazione del Tricolle ha liquidato la pratica molisana con il punteggio finale di 83-51 con una buonissima prestazione. La Ferraro ha dominato il campo guidato da una difesa impeccabile e un attacco letale. Un successo frutto di uno sforzo collettivo portando Ariano un passo avanti nella serie. All'esito di ogni quarto, il risultato ha sempre visto Ariano avanti. 28-13, 43-24, 63-37 e 83-51. Doppia cifra per Mauretti e Massototaro, Ferraretti 16, Turella 13. Dall'altra parte, questa sera la formazione molisana cercherà il rientro sul parking nell'ottica del back-to-back, modalità tipica dei play-off con l'obiettivo di puntare al successo per allungare le proprie speranze e proiettarsi alla gara 3 di domenica con l'intento di provare a spuntare l'accesso alla finale al primo posto. Con forte determinazione e la volontà di andare oltre il 32esimo figlio dell'83-51 di domenica al Palacardito, il gruppo della junior molisana Magnole a Campobasso si proietta sulla gara delle due serie in semipinale contro la Virtus Serenipino con la consapevolezza di andare a doversi a confrontare con l'antagonista che in 18 partite tra regular season e fase di orologio e play-off non è mai uscito dal parquet dovendo portare con sé un referto giallo. Nel frattempo, nell'altra semifinale, Salerno ha avuto la meglio su Agropoli con il punteggio finale di 67-52. Grazie a tutti.